A tutti gli auguri di una buona giornata ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV in diretta alle 7.30 Buongiorno naturalmente, buona giornata chi ci segue in replica alle 9.10 e alle 13.30 Dicevo in diretta per la consueta rassegna stampa del mattino Un'occhiata ai giornali che daremo tra un istante dopo avervi detto il santo di oggi Oggi è San Simplicio, è stato Papa, il sole è sorto alle 6.29 e tramonterà oggi alle 18.08 Vedete come si allungano le giornate anche se continuano ad essere un po' perturbate Questa è la foto della nostra webcam alle 7.30 del mattino Ci indica dunque una giornata ancora un po' così così Anche se la temperatura non è ancora primaverile in queste primissime ore Perché sono 6 gradi, insomma poi aumenterà nel corso della giornata Ma per oggi la protezione civile delle Marche prevede cielo sereno, poco nuvoloso Con temperature stazionari a un lieve aumento Per domani mercoledì 11 lo stesso, poco da dire Mentre giovedì vedete le cose cambiano un po' con il cielo che diventerà nuvoloso In particolare sul settore centro-meridionale della regione Marche Prevalenza di sereno dal pomeriggio Nella prima parte della giornata avremo rovesci sparsi più probabili nei settori centro-meridionali Le temperature in diminuzione, i venti saranno nord-orientali con raffiche fino a vento fresco La tendenza per i prossimi giorni, per il resto della settimana Sono attese condizioni di variabilità con deboli piogge In particolare per la giornata di domenica 15 Allora cominciamo a leggere i quotidiani La pagina di Fano del resto del Carlino racconta la storia, il dramma di una donna Una donna che si chiama Fiorella che è stata colpita dall'epatite C dopo una trasfusione Il dramma di Fiorella è contagiata e beffata Dopo una trasfusione da 4 mesi la regione non le paga l'indennizzo La signora racconta che da novembre hanno sospeso il pagamento Come lei accade anche a altre centinaia di malati E lei dice a noi questi soldi servono non per fare faville ma per le continue visite mediche Nel 1981 questa donna Fiorella Bianchetti appunto si cura per le conseguenze del parto della figlia E si ammala di epatite C Ancora dal resto del Carlino la rapina alla Carifano di Via Canale Albani Paura per una donna incinta, il bandito solitario sulla cinquantina ha colpito armato di pistola Forse probabilmente giocattolo L'accento è del sud e poi è fuggito a piedi Poi probabilmente sarà salito in un'auto parcheggiata poco distante Però di lui ancora non si ha nessuna notizia Mentre sulle parole, parole pronunciate dal Vescovo di Fano Trasarti l'altro giorno in una omelia Durante una messa dove invitava gli extracomunitari a non molestare i fanesi con richieste di elemosina Ebbene queste parole hanno fatto, scrive il giornale, molto clamore in città In sostanza il Vescovo ha detto vi aiutiamo noi, andate alla mensa dei poveri Ha detto il Monsignore Ebbene replica oggi sul giornale Primo Ciarlantini Che critica severamente il Vescovo Anche le parrocchie, dice Ciarlantini, si muovano Lo studioso dopo l'esortazione di Trasarti sul non fare l'elemosina L'enorme e attualmente disabitato Palazzo Vescovile potrebbe servire al bisogno Dice in modo provocatorio Primo Ciarlantini Sempre sul quotidiano Resto del Carlino A Monteporzo un cipresso alto 15 metri minaccia l'oculi del cimitero La zona è stata transennata E questo enorme cipresso alto appunto più di 15 metri Sta costituendo una grossa minaccia all'interno del cimitero di Monteporzo Tanto che l'area intorno è stata inizialmente interamente transennata In attesa di un intervento difficile che ne consenta la rimozione Visto che siamo in tema di emergenze ancora sul maltempo e quant'altro Ieri ci hanno segnalato, ma anche questa notte, stamattina Ci hanno segnalato dei distacchi di energia elettrica continui Che continuano ancora in queste ore Cercheremo anche, voi ovviamente chiamate l'Enel Noi cercheremo di fare la nostra parte Quindi cercare anche noi di capire il perché di questi distacchi, di questi disagi E poi magari vi aggiorneremo, vi informeremo nelle edizioni di questa sera del telegiornale Oppure sul nostro sito internet occhialanotizia.it Quindi buttateci un occhio Andiamo a Marotta dove sul caso del passaggio a livello L'opinione questa mattina sul quotidiano di un esperto di sicurezza La soluzione di un grande sottopasso unico La sopralevata non sarebbe un ecomostro Se le ferrovie non pagano allora deve metterle il comune Magari dalle opere di urbanizzazione, probabilmente dell'outlet Se mancano appunto i soldi A Saltara, a Saltara ragazzini arrestati con Lashish, Coca e Ecstasy Arrestati dai carabinieri nei pressi di una discoteca Ancora, l'ultima pagina del resto del Carlino Rimini vuole allargare la notte rosa Basta confini, inseriamo anche Pesaro Ricci è disponibile Ci caratterizziamo con cultura il San Bartolo Nel weekend di luglio Coinvolte Gabice, Gradare e Tavuglia Gnassi dice all'evento è da rilanciare ancora di più Gnassi è il sindaco di Riccione Ricci incassa, sempre Matteo Ricci il sindaco di Pesaro Invece incassa i soldi per rifare via le Trieste Via libera la vendita del 2,5% di marche e multiservizi Andreolli, le fogne non si fanno Cambiamo giornale, adesso andiamo sul Corriere Adriatico Apriamo la pagina di Fano A centropagine, in evidenza Mai ho pensato al conflitto di interessi Fabio Tombari, il presidente della fondazione Carifano Che ha sede in via Montevecchio Fabio Tombari sostiene di non aver mai pensato Di essere in conflitto di interessi Per l'acquisto di azioni di banca marche In relazione ai consistenti finanziamenti bancari Goduti dalle due società Non ho comunicato il caso Perché inconsistente La fondazione Carifano ha sborsato 45 milioni Per il titolo di banca marche Svalutandolo poi del 54% Mentre Madonna Ponte, la società di cui fa parte Tombari Ha ricevuto credito per 42 milioni Bologna 1 per 25 La prescrizione dello statuto Sotto il sindaco entro il mese Affidi i lavori alla Rincicotti Orciani La lettera appello dei membri di minoranza Della commissione di garanzia Per evitare il licenziamento di 5 dipendenti E sopra investimento disastroso Il presidente siamo in buona fede Ancora rapinatore solitario a Raffa 1000 euro Alla Carifano in azione un sessantenne Le telecamere ne riprendono il volto Forse è un colpo dettato dal bisogno di soldi Sorpresi con il bazar della droga Arrestati due giovani L'operazione dei carbinieri contro i pusher Della provincia di Fermo Sabato notte nel parcheggio Di una discoteca a Calcinelli E poi a Bellocchi Ampliamento industriale Arriva oggi in consiglio comunale Il piano attuativo Ma è cambiata stagione Sono previste una zona verde La deviazione del Fosso De Magnale E vasche di laminazione Niente lemosina Critiche al Vescovo L'onorevole Ricciatti e Ciarlantini Contro l'appello ai richiedenti asilo politico Ancora lavori pubblici da Fano e Valle del Cesano Lavori pubblici Settore da potenziare Sempre da Fano Scogliere La Confartigianato dà ragione all'assessore Giorgi Il comune di Fano è indietro nella progettazione Mentre Giuliani dice Certe inefficienze creano ancora maggiore pessimismo Negli operatori del settore A centropagina Isola del Piano Confermata l'acquisizione del bene sequestrato Fattoria della legalità Allo studio il progetto per una nuova gestione Per valorizzare l'immobile Strappato alla criminalità organizzata L'educazione stradale in classe invece a Mondolfo La polizia andrà a parlare Agli studenti dell'istituto comprensivo Fadi Bruno di Marotta Cambiamo ancora pagina Sempre dal Corriere a Senigaglia K.O. anche gli stabilimenti della polizia Le mareggiate non hanno risparmiato i capanni di Marzocca Gli operatori al lavoro per recuperare la sabbia E ancora sulle pagine del Corriere adriatico Andiamo agli esi per la notizia che riguarda questo 29enne Simone Calcatelli Dopo uno scontro, dopo un incidente Tanti sono gli appelli, tanti sono gli auguri I messaggi su Facebook di incoraggiamento per questo giovane ferito Nell'incidente Un 29enne è rimasto gravemente ferito in un incidente sabato notte Lungo via San Marcello Uno scontro frontale tra la sua Citroen e una Kia Sorrento In seguito al quale il ragazzo ha riportato un trauma toracico e un trauma cranico Andiamo sulla pagina di Pesaro del messaggero I primi effetti del Job Act Nelle Marche già qualche impresa ha stabilizzato precari con le nuove norme contrattuali L'altra faccia del lavoro, moltissimi in coda di notte per un tirocinio di sei mesi da 500 euro Ancora alberi da abbattere dopo la bufera di giovedì Affano intanto e scontro sull'emergenza del lungomare di Sassonia VL, lo sport, beffa tra gli applausi Una squadra da spellarsi le mani Ma purtroppo non basta per battere la squadra del Sassari Anche qui vedete la notizia della Notte Rosa Che il sindaco di Rimini Scusate quindi non è il sindaco di Riccione Gnassi ma il sindaco di Rimini Infatti ne ha parlato con l'omologo Ricci Dice abbattiamo i confini che troppo spesso sono solo barriere di carta Superate dai fatti e dunque il sindaco di Rimini vuole coinvolgere anche Pesaro Ancora sulle pagine del messaggero Andiamo sulla pagina di Fano del quotidiano romano Sassonia a pezzi ma elite sulle scogliere Gli abitanti contestano la scelta di spalmare i lavori su tutto il litorale L'intervento al via non prima di settembre ma il comitato spinge Il tempo stringe dicono e i fondi non bastano per l'intera costa Anche i 5 Stelle vanno all'attacco Se il progetto cambierà rischieremo di perdere i finanziamenti E in consiglio finiscono anche le spese per il rio Crinaccio Bandito attempato assalta la banca Il rapinatore solitario ha preso di mira l'agenzia della Carifano Di via Canale Albani il bottino di 1000 euro Torna a casa invece l'undicenne che ha bevuto candeggina La bambina di 11 anni che aveva bevuto candeggina Nella mattinata di mercoledì scorso Mentre si trovava nella sua abitazione a Fano Bene i medici dell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona Hanno deciso di dimetterla dopo alcuni giorni di terapia Nel reparto di chirurgia infantile Bene comune, Matteo Giuliani succede a De Marchi Cambia dunque il presidente Il presidente di questa lista civica Matteo Giuliani va dunque al posto di Carlo De Marchi Che però resta Resta come esperto, come responsabile della comunicazione Bene comune non si scioglierà nel movimento grillino Ha deciso così infatti l'assemblea di sabato scorso E continuerà per la propria strada Con l'intento di dare un contributo autonomo e originale Per il bene comune della città Poi la cronaca ancora Sempre qui sul messaggero di Fano Droga per tutti i gusti Arrestati due giovanissimi dai carabinieri di Saltare Con questa notizia Chiudiamo qui la nostra occhiata ai giornali Che torna domani mattina alle 7.30 Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti